Sorride Mr. Boscaglia, gli infortuni a Oger, uscito malconcio dalla trasferta di potenza e Peterman, che alla gara del Viviani non ha proprio preso parte per affaticamento ad un adduttore, sono entrambi già stati smaltiti. I due sono a disposizione, si candidano a costruire un'inedita linea mediana sabato sera, quando allo Zaccheria il Foggia sfiderà il Pescara. Insieme, precampionato compreso, tranne qualche scampolo di gara, non hanno mai giocato, eppure appaiono ampiamente complementari da una parte il dinamismo del ganese, dall'altra le geometrie e l'ordine del romano. Un cocktail che può risultare esplosivo nel centrocampo di Boscaglia, al quale dovrebbe prendere parte anche uno Schenetti che, giocando nel secondo tempo di potenza, da elastico tra mediana e tre quarti, ha alzato e non poco la qualità e l'incisività della manovra dei rossoneri. Sabato, intanto, lo stadio sarà accessibile ai soli tifosi di casa. Per ordine pubblico è stata vietata la trasferta ai supporter abruzzesi. Buone notizie, invece, per i sostenitori del Foggia, ai quali, sia pure con qualche limitazione, sarà consentita la trasferta di sabato, primo ottobre, allo Iacovone di Taranto. Grazie.